la tua priorità assoluta dovrebbe sempre essere la relazione con dio e realizzare la sua volontà per la tua vita non lasciare che quella priorità ti sfugga via nell'antico testamento troviamo un'immagine di questa situazione che fa riflettere ad un soldato era stata affidata la custodia di un prigioniero importante gli fu ordinato custodisce quest'uomo se mai venisse a mancare la tua vita pagherà per la sua oppure pagherai un talento d'argento primarei 20 verso 39 nonostante questo avvertimento il soldato si lasciò scappare il prigioniero come fu possibile a causa di superficialità e troppi impegni mentre il tuo servo era occupato qua e là quell'uomo sparì il re di israele gli disse quella è la tua condanna l'hai pronunciata tu stesso primarei 20 verso 40 mantenere al loro posto le priorità spirituali è una tua personale responsabilità non è di nessun altro se non lo fai il prezzo da pagare sarà molto alto ma prego ogni mattina dirai questo è bene ma aspetti anche il tempo necessario per ascoltare dio e ricevere da lui la guida prima di affrettarti nella tua giornata alcuni di noi hanno cancellato quei passi della scrittura che ci ordinano di aspettare dio c'è un'opera in corso nella tua vita proprio ora forse non ne sei pienamente consapevole ma senza di essa non sarà mai pronto a portare avanti ciò che dio ha in mente per te la bibbia dice ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava luca 5 verso 16 trascorrere del tempo con dio è la condizione per udire la sua voce e per fare la sua volontà spiritualmente parlando non esistono scorciatoie verso alcun luogo che valga la pena raggiungere